Nasce dopo una feria che abbiamo fatto nel Tirreno verso il Grossetano, esattamente alle Rocchette, abbiamo conosciuto un gruppo di pescatori che si lamentavano proprio a mo' di piangere, di dire questi ci stanno distruggendo. Ma perché voi ristoratori mi ha fatto uno di questo come domanda? Non ci date una mano a consumarli? Detto fatto. Non se lo è fatto ripetere due volte Valentino Caldiero, storico ristoratore a retino e si è subito messo ai fornelli. Protagonista del suo ultimo piatto, il crostaceo più discusso dell'estate, il granchio blu. Dopo scontato il fatto che è buono perché mangia solo ostriche, cozze, vongole, è il granchiettino più piccolo, quindi se non è saporito questo. E' l'abitante più temuto dei nostri mari, arrivato dagli Stati Uniti nell'acqua di stiva delle navi cargo e è diventato ben presto infestante. Nemico numero uno dei pescatori, particolarmente invasivo, per nutrirsi distrugge tutto quello che trova, dalle vongole ai pesci. E' un assassino del mare, ci sta portando via tutte le materie. Vogliamo arrivare a pagarle 35 euro le vongole a Natale? No, allora portiamo via sto cranchio, oltretutto è buono, lo cuciniamo. L'invasione ad Arezzo così si combatte a tavola, paccheri al granchio blu, si legge sulla carta. Molti ci chiedono come si farà ad aprirli perché sembra un'assurdità, invece è molto semplice. La linguettina tipo Coca Cola, una signora mi ha detto ieri, che ha la visione, e si apre. Si manda via tutto quello che non ci piace e si mettono in un pentolino con l'acqua a lessare e diventa questo fruttino qua. Una volta spolpato tutto, diventa questo prodottino qua, già preparato, che noi prepariamo con aglio, olio extravergine di oliva, prezzembre e pomodorina. Appena storditi ci immergiamo dentro la polpa, in modo che rimane la delicatezza del granchio, perché è molto delicato. Ma non solo primi piatti, a breve anche la pizza con il granchio blu. Stamattina leggevo una notizia che dei pizzaioli di Napoli ci fanno anche la pizza col granchio, che a breve faremo anche noi.